La libertà di informazione in Italia è in pericolo. Questo è il nuovo grande allarme lanciato da alcuni mass media, da alcuni esponenti politici e anche da una serie di giornalisti. Giornalisti che sono addirittura scesi in piazza per manifestare organizzando dei flash mob. Mi domando dove erano tutti questi negli ultimi vent'anni in cui l'informazione italiana è stata effettivamente massacrata. Io penso che abbiano più paura di perdere i finanziamenti pubblici piuttosto che la libertà di stampa. Anche perché sono gli stessi soggetti che da sempre strumentalizzano le notizie, ne censurano altre, pubblicano fake news e bufale. Noi lo sappiamo bene, li abbiamo smontati innumerevoli volte sulla questione cannabis ad esempio. Contemporaneamente però a Ostia Federico Ruffo, giornalista di Report, subisce un attentato di stampo mafioso. L'hanno provato a incendiargli casa per un servizio sugli ultras e l'andrangheta. Queste sono le emergenze, di queste cose bisogna parlare.